Musica Credo che la maggior parte di noi sappia quanto sia importante di poter disporre di una buona performance visiva alla guida del proprio veicolo. Io ritengo che nel futuro sarà sempre più importante perché aumentano il numero di veicoli che ci sono sulle strade e aumentano il numero di informazioni che i conducenti si ritroveranno a dover elaborare con i propri occhi. Come dicevo prima la capacità visiva è estremamente importante e anche la consapevolezza della propria capacità visiva è determinante. In particolare per quello che riguarda la messa a fuoco. La messa a fuoco in condizioni normali e anche in condizioni di stanchezza e di stress. Grazie 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 Grazie